Capitano di lungo corso, con la passione per il teatro, deciso a studiare per diventare attore, senza scorciatoie, e l'Accademia d'Arte Drammatica è la sua scuola. Giuseppe Zeno debutta in teatro e dopo una lunga gavetta inizia a lavorare per la fiction. Non ama dire di se stesso che è l'attore sulla cresta dell'onda, che è il volto e il divo della fiction in moltissimi ruoli, ma il suo successo lo decreta tale. È il pugile Armando in Un posto al sole, Tony Amitrano in Gente di mare, Salvatore in Assunta Spina, Giuliano, Kim, Francesco Russo, Omalese, Michele Benevento ed è l'amatissimo Pietro Mori nel Paradiso delle Signore. È bello, occhi profondi, uno sguardo penetrante che incontrano gli occhi di Margaret Made, modella e attrice. Un lungo sguardo, si innamorano, si sposano e da pochissimo è diventato papà della piccola Angelica. Capitano della sua famiglia, lo rivedremo interpretare il vice questore aggiunto Giovanni Nemi nella fiction Scomparsa. Giuseppe Zeno se ne deve fare una ragione, è il nuovo volto amato della fiction.